Ed eccoci al momento dell'approfondimento dove incontriamo un personaggio, saluto Rosario Trefiletti, Istituto Studi sul Consumo. Ciao Rosario. Ciao, ciao Roberto. Senti, noi ci conosciamo da una vita, però presentati, dove sei nato, quanti anni hai, chi sei? Sono un po' vecchio, sono un po' vecchio, sì, sono nato a Milano. Ma sei milanese. Sono milanese, sono milanese e tantissimi anni fa, nel 1943, 12 novembre, quindi ho 74 anni. E la Madonna li porti bene? Eh sì, li porto abbastanza bene, devo ammetterlo. Ho vissuto a Milano fino al 1980, perché poi sono passato da Milano a Roma, perché mi ha traviato un po' il sindacato, nel senso che io lavoravo, e avevo un lavoro molto bello che mi piaceva, alla raffineria di Ro. Ero un capo impianto, avevo fatto anche delle esperienze di formazione molto importanti sulle innovazioni tecnologiche e che altro, addirittura in Australia, corsi di formazione in Australia. Poi mi traviò appunto il 68, entrai nel movimento studentesco, lavoravo in raffineria e quindi ero nel settore dei chimici e lì il sindacato mi catturò nel 1975-76 e da allora feci un iter sindacale, sia a Milano, Milano e Lombardia, e poi al nazionale, perché ero bravino, così dicono, così dicevano, ero bravino, mi portarono a dirigere a livello nazionale il settore del petrolio. Allora lavorai appunto anche con Sergio Cofferati, che allora era i chimici, poi andando in pensione cosa fece la CGL? Aveva questo mondo del consumerismo che si doveva sviluppare e io avevo dimostrato qualche piccola capacità nel saper parlare, ma soprattutto studiare Roberto, la cosa più importante è studiare e da allora mi buttarono a mare, mi buttarono in questa associazione dei consumatori che si chiama tuttora Feder Consumatori nel 2000 e da allora feci il presidente della Feder Consumatori. Però la gente ti conosce per le sfuriate che fai in televisione, a difesa della gente, dei suoi interessi, ma che lavoro fai? Adesso come adesso io mi mantengo con la pensione che mi sono pagato io, e beh, se no le polemiche che giustamente non solo faccio, ma credo che anche tu Roberto fai, quella dei vitalizi o altre cose ancora, beh, sarebbero un po' polemiche viziate da comportamenti di formi. Quindi io sono in pensione dai primi anni del 2000, perché appunto ho 74 anni, quindi andai in pensione prima della Fornero e maturai 40 anni, allora il tetto era dei 40 anni, il massimo della pensione, e quindi io opero da pensionato. Mi mantengo con la pensione, non ho problemi a dirlo, al netto sono 29 mila euro all'anno, non come qualcuno disse una volta in trasmissione, proprio in quella che partecipi anche tu, 30 mila euro al mese, no, 29 mila euro all'anno e vivo decentemente con la mia pensione. Cos'è l'Istituto Studi sul Consumo? Sì, questa fu un'idea della Feder Consumatori di istituire una fondazione, una fondazione che studiasse in maniera più approfondita, in maniera più decisamente anche larga, per così dire, rispetto a tutte le tematiche del consumerismo nel nostro paese. E non doveva rispondere solo alla Feder Consumatori, che a sua volta risponde ai cittadini, alle loro esigenze, ai loro bisogni, ma lo fa anche con la cittadinanza, ovviamente, ma anche con le istituzioni. Ma perché il consumatore ha bisogno di qualcuno che lo tuteli? Beh, sì, c'è assolutamente bisogno di questo. Ahimè, noi in Italia, a differenza del mondo anglosassone, non siamo stati portati a sviluppare molto questo ragionamento sul consumo, sul mercato. Perché? Perché la difesa della cittadinanza allora era in mano alle grandi centrali sindacali e ai grandi partiti della sinistra. Bisogna ricordare il grande partito comunista che faceva le battaglie anche per l'acqua, cosa che l'acqua, i terreni, cosa che invece dovrebbe essere fatta da associazioni di carattere professionale che portino avanti questi obiettivi. Quindi in Italia ci fu bisogno a un certo punto di saper cogliere queste esigenze, questi bisogni e si cominciarono a fondare le associazioni dei consumatori. Sto parlando verso l'anno degli 80 in buona sostanza. Quindi è un fenomeno molto recente. Quante ne hai viste durante la tua carriera? Di truffe intendo? Ti ricordi quella più fantasiosa? Guarda, guarda, di truffe ne ho viste tantissime. Beh, quella fantasiosa e poi diciamola tutta, ebbe anche una svolta, per certi versi anche simpatica, però bisogna capirci bene cosa vuol dire simpatica. Quella di Vanna Marchi. Quella di Vanna Marchi fu una truffa che non solo di per sé era appunto, prendeva in giro molte persone che credevano alle sue parole come gli sciogli pancio. Noi fummo anche parte civile, parte in causa, quando andò a processo la cosa. Però lei inventò anche un nuovo sistema di comunicazione che era micidiale allora. Io ricordo che i cosiddetti studiosi di mass media o che altro studiarono molto questo fenomeno di Vanna Marchi perché innovò profondamente anche il rapporto con il mercato, con i cittadini. Ahimè in termini molto negativi perché appunto si truffava. Senti, dove si rischia di più oggi per quanto riguarda le fregature che sono sempre in agguato? Di fregature bisogna sempre stare molto attenti, ahimè a volte anche laddove uno non ci va neanche a pensare. Guarda, le ultime sono quelle, ma è mai possibile che le grandi strutture di telecomunicazioni hanno bisogno di raggirare in questo caso, più che truffare, raggirare i cittadini facendo le bollette a 28 giorni. Meno male che adesso qualcosa si sta muovendo nella direzione di riportare il tutto alla mensilità. Quello era un raggiro piuttosto importante. Ahimè, sarò noioso, ma le truffe che più noi registriamo, i raggiri che abbiamo registrato sono nel mondo bancario. Da quando io sono arrivato alla fede dei consumatori, l'inizio fu sconvolgente, perché ci fu il sistema bancario sui bond argentini, dove il sistema sapeva che l'argentinova stava andando in default e si liberò di tutti i suoi, dei buoni del tesoro, che allora si chiamavano così, e li dette in pasto a povera gente, poveri risparmiatori. Poi ci fu Cirio, Parmalacca. Ne ho vissute tantissimo. Ti do solo un dato che ti dovrebbe sconvolgere come dovrebbe sconvolgere non solamente noi due che ne parliamo, ma chi ha delle responsabilità istituzionali, di governo e via dicendo. Nel sistema bancario almeno più di un milione di famiglie è stato coinvolto in truffe e azzeramenti dei loro bisparmi. Un milione di famiglie, ragazzi. Ma un milione di famiglie, ai dati Istat sono 25 milioni di persone. Ora, renditi conto, solo le ultime sei banche che sono date, appunto, sappiamo bene dove, le quattro più le due venete, beh, solo le sei banche hanno coinvolto quasi mezzo milione di famiglie che gli hanno bruciato tutti i loro risparmi, siano essi in obbligazioni subordinate o siano essi nelle azioni e quindi piccoli azionisti tutti buggerati. Senti, per quanto riguarda l'online, anche lì bisogna stare molto accorti. Sull'online bisogna, allora, innanzitutto questo è un fenomeno che sta andando in grande crescita anche nel nostro paese. Noi eravamo più restii su questo terreno dell'inter... Adesso è esploso. Scusa, Roberto. Adesso è esploso. Sì, esattamente. Eravamo, appunto, molto restii come popolazione, come cittadinanza. Adesso, soprattutto i giovani, ovviamente. Come sempre sono i giovani che poi spingono rispetto alle innovazioni tecnologiche. È esploso. Lo abbiamo verificato soprattutto in questi ultimi due o tre anni. E anche in questo Natale, per esempio, le vendite, che non sono andate molto bene, si è solo galleggiato rispetto all'anno scorso, ma le vendite si sono orientate molto verso l'online. Lì bisogna stare anche qui molto attenti, sono delle regole ben precise. Una su tutte è quella che, meno male, c'è il ripensamento. Entro 14 giorni un cittadino, senza che debba giustificare il cambio di idee, ma può rinunciare a quanto ha comprato online. E poi, dietro l'angolo, ci possono essere, appunto, le fregature. Il fatto che ti vendono un prodotto che non è conforme a quanto ti dicono nella pubblicità. Il maglioncino, anziché essere di cashmere, come ti dicono, te lo mandano di lana, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare attenti. Per esempio, andare su siti molto conosciuti, su siti in cui c'è la impossibilità che ti clonino le carte di credito o altro ancora. Insomma, c'è da stare molto attenti anche sull'online. Sono partiti da poco i saldi. Come stanno andando le cose, dal punto di vista del consumatore? Cioè, tu cosa pensi dei saldi? Fai l'affare il consumatore o quel negoziante che ti rifila i fondi di magazzino che non ha venduto negli anni? Perfetto, Roberto. È proprio centrato il punto. Guarda, se dovesse... Allora, innanzitutto c'è tutto un discorso di carattere strutturale che bisognerebbe cambiare. Perché tra i pre-saldi che ci sono stati, quello del Black Friday, tra i saldi mascherati, quelli per cui siamo in fallimento oppure chiudiamo per, eccetera, eccetera, tra i saldi immediatamente a monte, ma di qualche ora o di qualche giorno, per quanto riguarda le date canoniche che sono regolamentate dagli enti locali. Ecco, in questo caso abbiamo visto che c'è una grande competizione scorretta tra di loro, all'interno dell'intermediazione. Quindi questo è un punto. Secondo, l'altro punto, abbiamo parlato dell'online. Terzo punto, il cittadino stesso, di fronte a questa situazione, ci sono cittadini di serie A che vengono informati prima dei pre-saldi o dei saldi quelli scorretti, e altri invece che corrono nelle date canoniche. Allora il ragionamento da farsi è quello che siamo arrivati al capolinea. Bisogna superare la questione dei saldi. Bisogna che l'intermediazione sia completamente libera di fare quello che vuole fare, quando vuole fare e via dicendo. In attesa di ciò, confrontandosi comunque con i saldi, è chiaro che ci sono i problemi che appunto citavi tu prima. A volte ti mettono i fondi di magazzino, e per legge invece il saldo è il prodotto di stagione, non di fondo di magazzino. E poi a volte non è conforme a quanto te lo dicono in pubblicità. Insomma, sui saldi bisogna stare sempre molto attenti. Sarebbe opportuno veramente superarli a pie pari. È partito l'anno nuovo, siamo già ai soliti rincari. Sono aumentati i pedaggi autostradali, aumenteranno le tariffe di luce e gas, aumentano i premi assicurativi. Perché tutti gli anni in questo periodo c'è questo assalto alla diligenza, ai danni del cittadino consumatore. È possibile fare qualcosa o ci tocca subire? No, bisogna fare qualcosa. Innanzitutto protestare. Ma noi possiamo per esempio fare questo e lo facciamo. Ti faccio degli esempi, così ci comprendiamo. Guarda, gli aumenti di luce e gas. Ora, le giustificazioni che dà chi ha determinato gli aumenti sono quelle per cui è aumentato il prezzo del petrolio. È nulla di più falso. Perché? Perché non dicono che è vero che il barile è aumentato, il barile che si paga in dollari. È passato dai 55, 54 ai 62, 63 di media. Ed è quindi una percentuale attorno a un 13-14%. Però non si dice nello stesso tempo che l'euro si è apprezzato rispetto al dollaro della stessa quantità, se non di più. E allora c'è un azzeramento perché noi paghiamo non in dollari, paghiamo in euro perché è la nostra moneta. Quindi è il dollaro che, depreciandosi, fa sì che il costo del barile diventi inferiore di quanto effettivamente è. Quindi è una grossa bugia che è stata detta al Paese. Poi, l'altra questione, ma come? Dicono che è un'altra giustificazione perché c'è un aumento della domanda. E allora perché non sono diminuiti i prezzi, le tariffe in questo caso, quando invece la domanda era inferiore? Mentre invece è aumentata la luce del 5,9%. E allora come possiamo fare? Allora, intanto denunciare. E naturalmente, per esempio, per quanto riguarda le autoriti, noi abbiamo chiesto, formalmente, rifate i calcoli. Perché evidentemente qualcuno li ha sbagliati. Perché se tu mi vieni a dire che è aumentato il petrolio, e il petrolio non è vero che è aumentato, tu mi rifai i calcoli. E allora a questo punto però anche il governo, con le sue responsabilità, dovrebbe subentrare, ma ahimè, non credo che lo voglia fare. Perché? Perché ti faccio il secondo esempio. Autostrade. Ma scusate. Autostrade dovrebbe avere un aumento, secondo i canoni tradizionali, legato al tasso di inflazione. Il tasso di inflazione in Italia, Roberto Poletti, è stato dell'1,1%. Tu perché mi aumenti e mi dai i due ministeri coinvolti, che sono infrastrutture e il Ministero dell'Economia, gli dai il 2,4%, addirittura in alcune tratte, il 18, il 12, il 50%. Cose allucinanti. Con la motivazione di che? Degli investimenti, oltre che del tasso di inflazione? Beh, allora voglio sapere che tipo di investimenti li hanno secretati, hanno secretato il valore degli investimenti. E allora bisogna saper quotidianamente denunciare, denunciare e poi ancora denunciare. Ha fatto discutere in questi giorni, Rosario, la storia dei sacchetti usa e getta ai supermercati, quelli a disposizione per frutta e verdura. Sia l'anno scorso erano gratuiti, ma dal 1 di gennaio ci toccherà pagare. Si è dato colpa all'Europa, dicendo che era un obbligo imposto dall'alto, ma Bruxelles ha detto che è una decisione italiana. Il fatto sta che è un'altra bella assurda tassa sulla spesa. Ti sembra giusto? Si può fare qualcosa? Ci sono degli interessi sotto? Allora, che ci sono... Perché dicono, ah, per un euro rompete le balle. E però, un euro, un centesimo. Lo sai, Roberto, che girando, e noi siamo in mezzo alla gente, poi la gente viene anche da noi, quindi non è che... ha fatto più arrabbiare questa cosa dei sacchetti, indignare più che arrabbiare la cosa dei sacchetti, piuttosto dell'aumento della luce del gas. E molti dicono, ma come? Sacchetto, due centesimi, tre centesimi, la luce invece, qui si parla di 80-90 euro all'anno, altro che 10-15 euro, che potrebbe essere la somma complessiva dei sacchetti. No, guardate, questo dimostra anche il rancore che i cittadini hanno, e questo mi ne dispiace moltissimo, verso le istituzioni. Perché non è più ammissibile che ci sia l'imposizione. I cittadini non accettano più che vi sia l'imposizione per cui c'è dal primo di gennaio che tutti i sacchetti che tu prendi, no? Devono essere assolutamente... Evidentemente c'è qualcuno che ci marcia, ci guadagna. Guarda, io non voglio entrare nella polemica delle amicizie di qualche d'uno, questa è la polemica che si sa esserci, però io voglio dirti questo, molto chiaramente. Noi non è che siamo contrari ai sacchetti compostabili, ci mancherebbe altro. Abbiamo visto cosa succede con la plastica normale, se sono compostabili, bene, devono essere effettivamente compostabili. Però il problema è che tu una partita del genere la devi gestire meglio. Primo, non devi imporre minimamente costi, che poi sono i costi della povera gente che va a prendersi due arance, tre limoni, o che altro. E secondo, non puoi non dare delle alternative. Ricordi, no, tu sei troppo giovane. Io ricordo che mia madre, mia nonna o che altro andava al mercato con la retina. La retina che non pesa nulla. Ho fatto tempo a vederle. Eh, allora sei anche tu un po' anziano. Eh, certo. Eh, Roberto. Tu poi. Le alternative sono o il sacchetto di carta che tu ti puoi portare, o la retina che non pesa nulla, ti metti dentro la brutta con l'etichettina, che ti dai, o tu stesso fai quando pesi al supermercato. insomma non c'è stata l'alternativa per esempio un consiglio che noi dobbiamo dare guardate che la stessa cosa succederà anche per le farmacie e per i farmaci in questo caso il consiglio è non fatevi dare il sacchetto tanto i farmaci sono già confezionati prendeteli così come sono ma li mettete in tasca portatevi la vostra busta quelle robe lì perché se noi sommiamo tutti i sacchetti dell'agroalimentare che sono tutti non è solamente la frutta e anche altri prodotti e anche quelli delle farmacie quindi si corre il rischio comunque di avere una ricaduta di 20-25 euro che insomma si avvicina a quelle previsioni che noi abbiamo fatto su tutte ci fermiamo per un attimo di pubblicità poi torniamo con Rosario Trefiletti Rosario parliamo un po' di politica che cosa ne pensi dei nostri politici ahimè tocchi un tasto dolente perché perché io mi dolgo che ci sia una cattiva politica perché la politica ma certo nessuno gode è fondamentale è fondamentale la politica sono fondamentali i partiti come credo sia io da osservatore sia te che da detto speri sempre che il governo che è in carica sia il migliore credi sempre alle promesse però poi se ti ritrovi preso per il culo come magari in questa fase noi sottolineiamo il fatto che ci sono un po' troppe promesse che francamente è di qua è di là io mi sono permesso di dire parlando anche con amici state attenti con tutte queste abolizioni di qua e di là il rischio è che molti cittadini sperano nell'abolizione dei partiti ecco questa è la cosa la cosa che mi preoccupa perché già c'è un distacco molto importante tra cittadini e la politica ma se continuiamo così addirittura facendo delle promesse sconsiderate in tutte le direzioni francamente c'è il rischio di aumentare ancora di più la disaffezione quindi noi dobbiamo essere che potrebbero il rinnovamento della politica che non ci siano più fenomeni di corruzione fenomeni di volta gabbana senza togliere la libertà di uno che è votato in Parlamento senatore o deputato ma voglio dire tutti questi atteggiamenti e poi tutte le altre cose che trascinano cioè i vitalizi il fatto che c'è l'assenteismo più sfrenato noi giustamente e tu lo sai quante volte l'abbiamo fatto l'assenteismo verso i lavoratori che non vanno a lavorare timbrano in maniera falsa e poi quelli che fanno le leggi non ci sono più però quelli sono veramente francamente insopportabili quindi c'è una serie di cose che noi bisogna che tutti insieme ci si batta per superare e ritornare alla buona politica cosa ne pensi del Parlamento che si è sciolto da poco secondo te gli danno una bella bacchettata il 4 marzo guarda il giudizio tu mi stai chiedendo se ho capito bene anche un giudizio di quello che è stato fatto guarda tranne qualche legge interessante sulla questione dei diritti civili beh io credo che questo è stato un Parlamento che non ha risolto il problema fondamentale che il Paese ha di fronte che sono diversi i problemi per la verità perché ci sono i problemi della diseguaglianza ci sono i problemi dei pensionati ci sono tanti problemi che bisognerebbe mettere all'ordine del giorno e rispondere ma il tema fondamentale è il lavoro questo è stato un Parlamento che non ha saputo dare risposte serie dicono di sì scusa dicono loro dicono ma io dico di no perché quando vedo ancora che noi siamo oltre l'11% di disoccupazione generale mentre il pre-crisi mi sto riferendo al 2007 2008 eravamo al 6% ebbè vuol dire che non si è fatto a sufficienza e quando siamo ancora ai livelli adesso è sceso di qualche punto ma siamo al 33 34% di disoccupazione giovanile allora eravamo circa il 20% beh significa che le cose non vanno bene ora c'è tutta questa polemica e io sono dalla parte di chi contesta in questa polemica per cui c'è un aumento dell'occupazione la diminuzione degli disoccupati non è così perché io il conteggio che vorrei tanto è il conteggio del numero dei posti di lavoro non del numero dei lavoratori mi spiego meglio perché se c'è un posto di lavoro dove ci sono sei persone che perché un giorno lo fa uno un altro giorno tre ore lo fa un altro allora non è un aumento del lavoro è un aumento di quanti sono attorno a un singolo posto di lavoro ecco questa è la realtà ci sono degli studi fatti molto bene che dicono appunto che è aumentato moltissimo il lavoro precario il lavoro viene conteggiato di chi fa un'ora alla settimana insomma ecco quindi il vero problema rimane che che ne dicano il vero problema rimane la disoccupazione del lavoro parliamo degli errori fatti da qualche amministrazione pubblica moltissime per la verità per quanto riguarda la tassa rifiuti anche qui i cittadini potranno arrivare a riavere indietro il maltolto dovrebbero avere indietro il maltolto dovrebbero è tanto è vero che però se chi mi manda le tasse che io pago senza guardare perché dico è doveroso pagarle mi fotte io la prossima cartella che mi arriva la passo ai raggi X sì però noi dobbiamo fare la battaglia perché ci venga restituito il maltolto e come facciamo dovrebbero io ho fatto addirittura che ho fatto anche una proposta che dovrebbero essere gli stessi enti locali che hanno fatto linguacchio a dare una restituzione perché cosa vuoi che si metta la vecchiarella lì con internet a partutti calco ma no l'ente locale il comune che ha fatto quello che ha fatto e cioè quello di fare il calcolo delle dipendenze fare il calcolo per calcolare appunto la tassa di fiuti l'Atari beh insomma rifaccia di nuovo il calcolo che va verificato e controllato quindi io dico alle famiglie se non siete in grado andate verso le associazioni consumatori ve lo fanno in due minuti il calcolo non è un calcolo molto complicato per le pertinenze se uno non ha il garage la cantina e quelle cose insomma quindi lo stesso comune deve dare una risposta assolutamente corretta tot vi ho preso tot vi devo restituire abbonandolo magari nelle bollette future il comune di milano ha detto che vuole rincarare il biglietto del metro da un euro e mezzo due euro farete qualcosa per evitare questo sarà la domanda la stai facendo a uno che adesso è in una fondazione non sono più un'associazione dei consumatori ma io mi auguro e sicuramente lo faranno anche la mia amata Feder Consumatori faranno contesteranno questo aumento perché francamente è un aumento del 30% non si capisce per quale motivo l'inflazione è all'1% e tu mi aumenti una tariffa del 30% guardate io voglio però spendere non lo dico né per simpatia o che altro lo dico come dato oggettivo tu sei Roberto io vengo da Roma ebbene è chiaro la polemica bisogna farla un euro e mezzo due euro assolutamente sì e mi auguro che la si faccia in maniera anche dura però santa pazienza almeno il servizio a Milano è un servizio io sono per i mezzi pubblici però a Roma mi astengo cioè prendo il taxi io purtroppo anche a Roma siccome sono un pensionato con le cifre che ti dicevo prima prendo i mezzi pubblici e guarda ti assicuro è un disastro certo la contestazione a Milano la si può fare in maniera forte determinata e la si deve fare a Roma ti assicuro che io ecco ci metterei un po' di condimento con qualche contestazione e in più qualche parolaccia i commessi del Parlamento avranno uno scatto di aumento che porterà alcuni di loro a guadagnare più del Presidente della Repubblica che contraddizione è questa e che cosa ne pensi? ne penso tutto il male possibile siamo già intervenuti a suo tempo quando si scoperchiò ma è strano che poi si deve dire per un'istituzione pubblica si scoperchia la pentola ma quando si seppe che gli stipendi a partire mi ricordo la battuta il barbiere di Montecitorio che guadagna cifre che si avvicinano a quanto guadagnano i funzionari della Presidenza della Repubblica americana non quella italiana voglio dire sì è una cosa scandalosa ma soprattutto vedi Roberto il problema è che queste cose si innestano su un tessuto dove il nostro paese ha aumentato fortemente le diseguaglianze ne vogliamo dire fino in fondo quando la povertà aumenta da un milione e quattrocentomila famiglie nel giro di un paio d'anni va a un milione e seicentomila famiglie sto parlando di povertà assoluta perché se parliamo di povertà relativa allora ben altre cifre sono da mettere in campo e allora in questo caso di fronte è un paese il cui figli non lavorano in cui le diseguaglianze aumentano i ricchi diventano sempre più ricchi i poveri diventano sempre più poveri con uno scivolamento del ceto del ceto piccolo borghese del ceto medio verso il basso e ti ritrovi con queste cose allucinanti di salari di stipendi che sono stipendi incredibili rispetto all'andamento dell'economia e alle cose reali che tutti i giorni noi verifichiamo beh queste cose gridano vendetta non possono passare senti ma sei ottimista o la vedi sempre nera? io sono mi reputo sempre uno realista nel senso che io controllo vedo e dico la mia poi dicendo a volte facendo degli errori come li fanno tutti ma voglio dire la mia e in questo caso non sono mai stato né pessimista né ottimista certo è che se continuano così gli andamenti di gestione politica della cosa pubblica per cui si promette e non si mantiene le diseguaglianze aumentano non c'è rapporto con i cittadini non c'è rapporto con i cittadini ma io non ho capito perché a te ti vedo anche perché è il tuo mestiere ma ti vedo in mezzo ai cittadini io vado in mezzo ai cittadini loro ci vanno solo in campagna elettorale loro ci vanno in campagna ma forse vanno in campagna elettorale io guarda lo sai se non fosse che è un discorso astratto e utopistico quindi manco bisognerebbe farlo ma guarda che se le televisioni per esempio non parlassero più non invitassero più i politici ma loro sarebbero costretti ad andare ai mercati è vero voglio dire andare in mezzo alla gente quasi quasi mi viene voglia di dire una cosa appunto utopistica strata sbagliata anche non invitateli così almeno vanno questa volta vanno in mezzo alla gente a parlare direttamente con loro senti mai avuta la tentazione offerte di scendere in politica sì no c'è offerte no ecco appunto distinguiamo allora sì offerte nel diciamo così nel liter che ho fatto nella fede dei consumatori sì parecchie volte mi è stato detto se volevo appunto concorrere in diversi partiti vuoi sapere una cosa è abbastanza anche non dico curiosa io la trovo anche positiva trasversale io ho avuto proposte trasversali e continuo ad avere tutti sanno tutti sanno perché io l'ho sempre detto che provengo da partiti di sinistra amo Berlinguer ecco così uno capisce subito ma io ti assicuro mi ha fatto molto piacere sapere qualcuno potrebbe pensare beh guarda allora si vede che sei in contraddizione con te stesso perché ti vengono a fare delle proposte io ho delle proposte che mi vengono anche da destra dal centro destra tranquillamente che ho ring sono stato onorato e ho ringraziato e non ho accettato e non ho accettato tuttora esistono ancora delle proposte io preferisco e te lo dico molto francamente preferirei continuare a fare quello che faccio perché è molto bello poi tu lo sai io lo faccio gratuitamente nel senso che per me è proprio una passione la vita avere il rapporto e poi sono anche molto fortunato perché mi invitati in televisione divento la gente cosa ti dice per strada quando ti incontri crediateci o no ma io sono molto lo vedo lo verifico sto dicendo una parolona grossa che forse ecco mi vergogno un po' però mi amano mi vogliono bene mi fermano mi fermano anche oggi venendo con il mio trenino per venire da Milano a Saronno sono stato fermato ringraziato mi si da la pacca mi si vuole stringere la mano e questo è l'emolumento più bello che uno può avere e io di questo sono molto contento soddisfatto gratificato e vorrei continuare così certo certo Roberto non vuoi che io menta fine in fondo che se a un certo punto qualcuno mi viene a dire guarda che di te non possiamo quasi non è vero no? ma quasi fare a meno e quindi ti proponiamo un seggio importante eccetera eccetera ci penserei come sono sempre stato onorato sarei ancora onorato ci penserei però allo Stato richiamami un'altra volta per un'altra intervista grazie Rosario Trefinetti grazie a te alla prossima grazie a te grazie a te